Ciao, andiamo a vedere le previsioni per la settimana dal 14 al 20 ottobre. Diamo l'avventurina verde per il primo mazzo di tarocchi, mentre per il secondo mazzo il quarzo rosa e o l'ametista. Fai la tua scelta, andiamo a vedere cosa ti accadrà settimana prossima. Andiamo. Bene, andiamo a vedere, cara avventurina verde, la tua settimana dal 14 al 20. Partiamo dagli oracoli, usiamo gli oracoli volume 3 e andiamo a vedere. Allora, 14 20 ottobre 2024, per l'avventurina verde, cosa accadrà a coloro che hanno scelto l'avventurina verde? La delusione. Allora, qui c'è un qualcosa che deluderà durante la settimana. Attenzione, fermi, fermi tutti, troppo presto. Che delude. Qui c'è una delusione emotiva, più che altro. Quindi magari è un qualcosa, un po' una mancanza, un qualcosa che sentiremo nel cuore, che ci manca. Delusione. Ora vediamo, vediamo con i tarocchi. Diciamo che qui ci possono essere dei momenti malinconici. Ecco, mettiamola così. Dei momenti malinconici, mi do la crema. Dei momenti malinconici durante la settimana. Quindi un qualcuno, un qualcosa di cui sentiremo nostalgia. Magari tu potresti ritrovarti a pensare ad una situazione che ti crea dei rimpianti, dei rimorsi. Insomma, diciamo, è una carta emotiva questa. Quindi non è detto che succedano chissà quali tragedie. Ora vediamo subito con i tarocchi. Va bene. Però ecco, è una settimana che ti vedrà un po', vedi, un po' come questo Pierrono. Un qualcosina dentro si ripensa magari ad una situazione che ci ha deluso. Ad un rimpianto, ad un qualche tipo. Insomma, diciamo si piange un po' sui latte versato. Capito? C'è un qualcosa di cui proveremo rimorso, senso di colpa. Ecco, questa è un po'... Però, insomma, questa non è una carta che fa accadere chissà cosa. Andiamo a vedere cosa dicono i tarocchi. Poi vediamo tutte le altre carte. Cosa accadrà per l'avventurina verde durante la settimana dal 14 al 20 ottobre 2024? Prima carta 9 di bastoni. Qui non vi stevolare due. Vedi? Il re... E che pareva non ci fosse un uomo in mezzo. Dove c'è tristezza se è sempre nel mezzo un uomo? Vabbè, re di spade amanti. Scusate lo sfogo, ma ormai è talmente chiaro. Cioè, tutte le volte... Andiamo a vedere. Che poi magari... Ah no, qui addirittura ce ne sono due. Re di denari. Forse tre. Cavallo di denari. Allora, andiamo a vedere. Ma guarda. E nel taglio il 6 di denari. Allora, questa è una settimana che vedrà sicuramente l'arrivo di notizie. Qui ci sono delle notizie che arrivano, che sia un messaggio, che sia una telefonata. Va bene? Ecco, una novità. Si potrebbe trattare di una notizia nel senso di un invito ad un qualche tipo, della proposta ad un qualche tipo. Perché dico questo? Non solo per questo, ma molto per questo. Perché qui c'è una scelta da fare, una decisione da prendere. Ok, allora, i casi sono due. Oddio, sono decine di migliaia quanti siamo noi. Però, passami il termine. Qui ci può essere una situazione che presuppone, come ti ho detto, una scelta, una decisione da prendere su un qualcosa che già è stato rinviato. Qui c'è un rinvio, un rinvio, un allungare il brodo, capito? Ecco, quindi un qualcosa di questo tipo. ci potrebbe essere, come stavo dicendo, un invito, una proposta ad un qualche tipo. Va bene? Ma guarda, qui mi viene molto da pensare, tanto sto tirando anche tutte le altre carte, ora le vediamo anche loro. Ma qui letteralmente ci potrebbe proprio essere, fammi vedere, la scelta fra due uomini, fra due uomini, magari così, magari si può trattare scelte fra due uomini lavorativamente parlando, ma insomma, ok, qui c'è una scelta da fare e qui ci sono due uomini, quindi, va bene, quindi letteralmente, se tu sei un uomo potrebbe essere la proposta che ti arriva da un altro uomo, se ti garbano gli uomini, ma anche se non ti garbano, qui ci può essere un uomo che semplicemente ti propone un qualche cosa e tu devi scegliere e decideri che tu vuoi fare e tu sceglierai con quello che ti converrà di più fare, esatto. Ok, se tu sono donna mi vien da dirti uguale, qui c'è una proposta, vedi questa letterina bellina, dove la lettera che arriva, no? Ok, quindi letteralmente una lettera, magari una mail, insomma, un messaggio che ti arriva, una novità che ti arriva. Guarda, qui ci potrebbe essere proprio il passaggio, come ti stavo dicendo, da una situazione all'altra anche, che può riguardare il lavoro. Vedi, questa delusione semplicemente mi può parlare proprio di un qualcosa di, come ti posso dire, di nuovo, cioè ci si lascia alle spalle un qualche cosa e si va verso qualche cosa d'altro. Fammi vedere tutte le altre carte prima di metterle insieme, se no, vedi, depressione, ansietà, worry that someone is against you. Qui abbiamo paura, abbiamo timore che qualcuno ce l'abbia con noi, semplicemente. Ok, forse perché è una persona dura, è una persona che si rivolge a noi, insomma, in modo abbastanza diffidente, freddo, distaccato. L'unicorno, use your intention to make beneficial changes. Quindi, vedi, time to get out of a situation. È l'ora di uscire da una situazione. Fanno vedere il secchio che si ribalta dopo questa depressione, ansietà. E l'unicorno, infatti, ti dice, usa la tua intuizione per apportare, insomma, dei cambiamenti positivi per te. Quindi qui sono chiari, qui c'è proprio l'andare da una situazione ad un'altra. Qui dopo tanto riflettere, dopo tanto rinviare, che poi questo rinvio può essere tuo, così come può essere dell'altra persona. Ok, in altre parole, c'è una situazione che viene rinviata, vedrai, vedrai, dirò, fa roba, bam, 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 bam. Poi alla fine qui si fa una scelta magari anche diversa. Ora, tutto sta a vedere, ora andiamo a chiarire chi sono questi due personaggi. Perché qui è proprio come se io avessi questa divisione, no? Questo bivio, passami il termine, questo bivio, il re di spade di qua e il re di denari di là. Vedi te, di chi ti parlano? Meglio che te, che tu sei in ballo. Fammi vedere dove sono. Oddio, non trovo i tarocchi piccolini dove li ho cacciati. Il bello della diretta. Si fa perdire. Allora, usiamo loro. Volevo un altro mazzo ma non lo trovo. Vediamo questi. Allora, aspetta, vediamo con i tarocchi piccolini. Eccola là. Ok, andiamo a vedere. Chi è quel re di spade? Per l'avventurina verde, chi è questo re di spade? Ecco, 240 miliardi di carte. Il bagatto, la morte, l'otto di denari. Ecco. Qui c'è qualcuno, lui il re di spade. Aspetta, chi è il re di denari per l'avventurina verde? Chi è questo re di denari? C'è un qualcosa che ti continua a mandare avanti, a rinviare, a rinviare, a rinviare. Si può trattare di un viaggio, ma anche di lavoro, magari dello studio. Il 6, chi è questo re di denari? Il 7 e il 4. Vedi? Allora, qui ci potrebbe veramente essere... Il 3 di spade. Ci potrebbe veramente essere, come so detto io, qui c'è un qualcuno o due situazioni, o due persone, o due situazioni comunque diverse. Una che ci continua a rimandare, rimanda, 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 rimanda. L'altra invece che arriva con una proposta più concreta, ok? La delusione, che uno dice, ma perché la delusione? Effettivamente qui c'è la stessa delusione, c'è ansia di un qualche tipo, ok? Per l'avventurina verde. Ma le carte ti dicono, qui tu devi avere il coraggio di ascoltare la tua intuizione e portare un cambiamento. Quindi io credo che qui si dia le spalle a una situazione che viene rinviata, rinviata, questo brodo che si allunga e si scelga, si decida ad andare verso l'altra persona, verso l'altra situazione. Ora, qui ci sono delle situazioni che mi parlano, e o di lavoro, o proprio di denaro, cioè di un qualcosa comunque di pratico, che ci può portare del benessere, che ci dà interesse, e bla bla bla. Ok, fammi vedere con le altre carte. Voglio vedere, avventurina verde, dal 14 al 20. Poi ricordati che ho pubblicato l'oroscopo, eh, per ottobre dei segni zodiacali. Vedi? Qui c'è la passione, l'amore con venere, ma c'è anche la malattia. Quindi, vedi, sull'amore, vedi su questi cuoricini. Quindi sicuramente qui c'è qualcuno che ci tiene in ansia, che ci fa stare un po' con il fiato sospesso, da lì la delusione. Quindi potrebbe essere una persona, come stavo dicendo, che non ci dà quella... Attenzione, può essere un padre, eh. Può essere un padre o un capo sul lavoro. Capito? Vedi, è l'amore. Ok, qui c'è due volte la venere. Quindi, capito? C'è una mancanza affettiva. Ecco, oh, mi venia la parola. Vediamo anche le sibille che chiacchierano un monte. Capito? Avventurina verde. Qui ci si sente proprio non amati. O comunque è di amore, di manifestazione d'amore e d'affetto che abbiamo bisogno. Mentre qui vedo più che altro cose pratiche. Capito? Più che affettive del termine. Però c'è qualcuno che si propone, che si fa avanti. I deliranti, vedi? I deliranti, la prigione, la donna amarizzata, il domestico, vedi? Eh, sì, sì. I dom... La lettera e l'amante. Eh, beh. Allora, cosa abbiamo detto fin qua? Qui c'è una situazione deludente, che non ci fa sentire apprezzati, che non ci fa sentire... Uomo o donna che noi siamo, eh? Non ci fa sentire in un certo modo, ci fa sospirare, perché non ci arriva quello che noi desidereremmo, quello di cui noi avremmo bisogno, un bisogno infinito. Però qui l'unicorno ci dice, guarda, qui le cose cambiano, tu le devi far cambiare. Ecco. E si potrebbe decidere... Vedi c'è questa prigione, questa donna amaritata che è in prigione, e si sente, insomma, un po' in quella maniera lì, in una situazione, eh? Qui arriva il domestico con la lettera dell'amante. Quindi amante in tutti i sensi, eh? Nel senso una persona, insomma, lover, ehm, come si dice? Insomma, attaccafeo, va bene? Questo personaggio che ci fa la serenata, ci suona la chitarra e il violino. Quindi, e qui si vede. Quindi qui c'è proprio questa comunicazione in arrivo, questa proposta che arriva, guarda, bellina, questa lettera, vedi? Ok? Che arriva da un secondo personaggio. Quindi, se siamo in ballo con una storia d'amore o con un matrimonio che non ci fa stare bene, bla 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 bla. Qui ci arriva una proposta da parte di qualcuno, magari l'invito a uscire, l'invito per fare un qualche cosa, va bene? Da questo amante. Quindi carte molto molto belle, qui abbiamo gli amanti e va bene. Fin qui ci siamo. Però ci si arriva a questo, da una situazione invece, capito? Con un'altra persona che non ci soddisfa, che ci fa sentire insoddisfatti, non sereni, non apprezzati, non amati. E bla bla bla. Però effettivamente qui è arrivata ora di reagire, di uscire da questa situazione. Quindi rovesciare il secchio, andarsene e apportare un cambiamento positivo per noi, per la nostra vita. Quindi le carte ti dicono sì, ti consigliano su quello che tu devi fare, ma ti preannunciano quello che accadrà. Cosa accadrà? Un cambiamento. Ora, io non so e non credo si tratti della stessa persona, un re di spade che mi diventa re di denari. Non lo credo. Io credo che ci sia una persona che agisce come ti ho detto, bla 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 bla, e che noi a un certo punto gli si dia ciao e si decida di accettare questo invito di questo amante. Persona molto più carina, molto più aperta nei nostri confronti, magari anche più paracula, per l'amor di Dio. Però, insomma, ok? Quindi c'è una situazione che potrebbe un po' deludere. Ora, io vorrei che questa carta, siccome la conosco, l'ho fatta io, mi parli più semplicemente, visto tutte le altre carte dove è uscita, mi stia parlando anche di un certo senso di colpa che tu ti potresti fare per accettare questo invito di questa amante. Insomma, perché in colpa? Cioè, qui ti vedo, tu va via il cervello, il tuo sei in prigione. Quindi, se tu riesci a liberarti da queste catene e godere un pochino della vita, insomma, ecco, non credo tu ti debba sentire in colpa. Vero, avventurina verde? Comunque, andiamo a vedere i segni zodiacali coinvolti. Allora, durante la settimana dal 14 ottobre, vediamo con quali segni zodiacali avrà a che fare l'avventurina verde. Vediamo un po'. Avventurina verde, segni... Ricordati di guardare l'oroscopo, eh, per il mese di ottobre che ho già pubblicato. Allora, segno della vergine è uscito direttamente due volte. Allora, vergine, scorpione, pesci, capricorno è uscito direttamente due volte. I pesci vengono confermati. Questo, niente. L'acquario, capricorno, acquario, pesci, scorpione, vergine, cancro. Cancro viene confermato, capricorno viene confermato, vediamo gli altri, questo, niente. Pesci di nuovo confermato, il cancro viene confermato, ora mi fermo perché quando si ripetono così, qui vedi questo niente, questo niente, l'acquario viene confermato, e questo era caduto, il sagittario due volte direttamente, l'ariete, e lo scorpione viene confermato, va bene? l'ariete, capricorno, cancro, sagittario, vergine, pesci, scorpione, acquario. Questi segni zodiacali che più escono in fuori, poi quello che ti deve far fede, come ti spiego sempre, è ovviamente la stesa, anche se tu non dovesse ritrovare il segno zodiacale, eccetera. Quindi, facci sapere, diciamo, riassumere in una parola, tutta la settimana, una comunicazione importante, che ti arriva da una persona che ti piace, un invito importante da una persona che ti piace, che è questo amante qua, poi tu ci farà sapere, va bene? Poi ascoltati l'altro mazzetto, come ti dico sempre, andiamo a vedere, andiamo. Eccoci qua, andiamo a vedere, per te, che hai scelto il quarzo rosa o l'ametista, vediamo la settimana, dal 14 al 20, partiamo come sempre dagli oracoli, useremo gli oracoli volume 3, che ho creato io, come vedi, vediamo, allora, una carta per il quarzo rosa o l'ametista, dal 14 al 20 di 8, adoro questa carta, i pettegolezzi, guarda le orecchie ritte, allora, qui, ecco, attenzione, e tiene ben aperte le orecchie, qui arriveranno, appunto, dei pettegolezzi, no, delle chiacchiere, qualcosa quindi, ti verrà all'orecchio, verrai a sapere un qualche cosa, sentirai dei chiacchiericci, dei pettegolezzi, un qualcosa che, ti verrà riportato, in un modo o nell'altro, ma, attenzione, come la carta ha sempre due fasce, come si dice, non le mie parti, potrebbe pure essere, che qualcun altro, ok, metta in giro delle dicerie su di te, attenzione, qui la carta ci dice solo, che ci saranno dei pettegolezzi, delle chiacchiere, un qualcosa di riportato, ok, ora vedremo, con l'aiuto di tutte le altre carte, di che cosa si tratta, e a cosa porterà, ok, qui potrebbe pure essere, che ti arrivi un qualcosa per iscritto, è più che per parlato, insomma, ma andiamo a vedere, quarzo rosa ametista, dal 14 al 20 ottobre, settimana da, quindi, volate già, 3, ah, aiuto, qui mi vola, furt'oddio, allora, qui fanno vedere, ok, qui c'è un cesto pieno di roba, e c'è il riconoscimento, per un merito, quindi, bene, un nostro merito, ci verrà riconosciuto, e c'è una, meeting with the stranger, could be important, qui c'è la stretta di mano, con qualcuno, l'incontro con un, con un estraneo, si rivelerà importante, qui c'è il matrimonio, ora, qui ci può essere, effettivamente, una novità dei pettegolezzi, riguardo il matrimonio, un matrimonio, in genere, oppure, perché il matrimonio, non è solo il matrimonio, ci si mette la feda ai dito, matrimonio, nel senso, può essere anche una collaborazione, quindi penso anche, è ovvio, che in matrimonio, si pensa in matrimonio, ma, io devo, essere di ampie vedute, pensando tutte, qui si può trattare, anche, perché no, ora lo andremo a vedere, di una collaborazione, il matrimonio, in tal senso, no, di un accordo, lavorativo, per esempio, e via dicendo, via discorrendo, ma, lo vedremo, strada facendo, cominciamo, a tirare giù, i nostri tarocchi, aspetta, facciamoci un po' di posto, bene, con i tarocchi, che avete scelto, e andiamo a vedere, la settimana, dal 14 al 20 ottobre, per coloro, stavo dicendo, mi si è rigirato, tutto in mazzo, che hanno scelto, quarzo rosa, amifista, allora, la luna, vedi, guarda, la luna, come prima carta, ok, e ci sta a pennello, questo, guarda, ah, in giudizio, ci sta a pennello, stavo dicendo, qui, in questa stesa, qua, arzo rosa, 10 di spade, perfetto, il 5 di denari, che è volato, capovolto, però, c'è male, sta stesa, mamma mia, meno male, via, meno male, veramente, papa, e nel taglio, il re di denari, eccola là, te pareva, ci fosse un uomo in mezzo, allora, qui c'è da ragionare, tre giorni, però la farò breve, vedi, allora, qui il soggetto potrebbe essere questo re di denari, quindi, pettegolezia, potrebbero riguardare questo re di denari, che, attenzione, lo ridico un'altra volta, non è detto che sia l'uomo che tu hai in mente o nel cuore, te, parlano di un essere maschile, punto, io non ho più fiato, bambini, per dirlo, ma lui non è tornato, ma chi ti ha detto, io ti stia parlando di un ritorno, io ti sto parlando di un oroscopo, chiamiamolo l'oroscopo, settimanale, quello che vivrai durante la settimana, ma andò sta scritto, che si parli del tuo ex, ragazzi, insomma, le altre sono più, sono più avanti di questo, ecco, comunque, detto questo, detto questo, ora, qui diciamo, questa luna, con questo giudizio, poi c'è anche i dieci di spade, insomma, con queste, con questa carta dei pettegolezzi, le ci vanno a nozze, ma proprio a nozze, quindi qui c'è qualche malignità, che viene detta, che viene raccontata, capito, un qualcosa, guarda caso, c'è il Papa, che mi richiama molto questo matrimonio, quindi, effettivamente, qui arrivano all'orecchio, dei pettegolezzi, a te, che possono riguardare questo re di denari, dico, possono, un è detto che riguardi solo lui, potrebbero riguardare lui, dei pettegolezzi, che ti arrivano all'orecchio, che non ti faranno troppo piacere, o almeno potrebbero non farti troppo piacere, oppure, le potrei leggere anche queste carte, siccome c'è un giudizio in mezzo, potrebbero semplicemente parlare, delle notizie che ti vengono date, che sono negative, quindi, non è detto facciano del mal a te, cioè, ti vengano a parlare male, ti diranno cose brutte, te ne parleranno, cioè, sono pettegolezzi, in poche parole, sono parole, cattive, o comunque giudicanti, non so come è meglio dire, poche parole, uno ti può venire a disare, quello lì è proprio uno, ecco, è una persona così cattiva, una persona brutta, perché fa questo, fa quello, ok, o ancora, qui ci potrebbero anche parlare, di un qualcuno, come dire, sai, tizio si separa, oppure, tizio, gli fallisce l'azienda, un casino, sta passando un brutto momento, anche economico, quindi finanziariamente parlando, ok, ok, quindi questa è la prima ipotesi, che ti do, allo stesso modo, però, qui posso vedere, scome qui ci sono dei meriti, che ti verranno riconosciuti, ok, qui ci può essere anche, un momento sicuramente difficile, economicamente parlando, quindi c'è un qualcosa, che tu devi risolvere, perché qui mi fanno vedere, il caos, totale, qui c'è un caos, c'è un casino, economico, anche, ti sto parlando, anche proprio a livello economico, va bene, che però, mi voglio augurare, ora vado ad ampliare, con questo papà, tu potresti risolvere, visto che qui, c'è questo, come si chiama, basket, ok, questo cestino, pieno di, ricompense, andiamo a vedere un attimino, con i tarocchi, innanzitutto, dicemi che, questo 5, vediamo, se il papà da solo, ce la fa, a risollevare un po', tutto sto casino, fammi vedere, vedi, esatto, qui ci sono, o un investimento sbagliato, una perdita economica, un qualcosa, che, insomma, capito, che non, non sta andando, insomma, qui ci sono, un po' di alti e bassi, oddio, più che alti, vedo proprio bassi, capito, a livello proprio, economico, andiamo a vedere, ok, mi sono volate di sotto, e capito, qualsorosa, ametista, sicuramente, però, io vedo sta cesta piena di roba, questa cesta piena di roba, qui, attenzione, non vi fate abbindolare, allora, attenzione, mai sia, mai sia, qualsorosa ametista, che tu sei in contatto con un uomo, attenzione, che ti dice, piange, si strappa le vesti, che ha bisogno di soldi, attenzione, che ha bisogno di soldi, almeno che non sia tuo figlio, tuo fratello, io ti sto parlando, se tu parli, con un estraneo, con una nuova conoscenza, o comunque una persona, che non conosci, poi così bene, mettiamola così, che piange, che è disperato, che ha bisogno di soldi, non ti fa venire in mente, diragli di te, che non ti venga, poi sono cavoli tuoi, ma insomma, io ti dico, attenzione, qui c'è questa luna, c'è questo, non ti fidare, non ti fidare, ripeto, se si, i padri, i fratelli, che discorso, io ti sto parlando, mai sia, che te tu chat, tu parli con qualcuno, che non conosci, o comunque tu lo credi, in un modo, perché questa persona, potrebbe rivelarsi, in tutt'altro, quindi, se ha dei problemi economici, scegli a lui, i problemi economici, lascia stare, ecco, qualsorosa, ametista, qui c'è qualcuno, che non è quello, che te tu credi che sia, va bene, poi c'è il 6 di bastoni, con questo 6 di spade, rovesciato, quindi, va bene, qui qualcosa, viene rivelato, vedi che c'è la regina, un qualcosa, viene rivelato, qualcosa viene, alla luce, ma non è una cosa, poi tanto carina, vediamo le sipille, capisci, quindi se tu, felati, mi raccomando, fammi vedere, guarda, ti dico anche un'altra cosa, qui ci può essere pure qualcuno, che risorge dalle sue sceneri, cioè, che torna a farsi vivo, dopo chissà quanto tempo, però potrebbe deluderti di nuovo, quindi, fai attenzione, guarda, il dono, il dono, la stanza, dono, stanza, deliranti, due carte, qualsiasi cosa mi fiesta, poi guardati l'oroscopo, ho pubblicato l'oroscopo, per il mese di, di ottobre, 2024, per i segni zodiacali, vattelo a vedere, metti tutto insieme, magari qualcosa è uscito fuori, anche lì, comunque, guarda, qui continuano a cascarmi, 340 carte, qui c'è un qualcuno, che ti propone un qualche cosa, capito, il mercante, il prete, vedi, qualcuno, che ti propone, ma io temo, temo, da quello che vedo, vedi, che tu sei amatrice, regina di bastoni, questo gli è mercante e prete, ecco, quindi, fai attenzione, voglio dire, non ti fidare, perché dipende, da che situazione hai, chi è questa persona, ma se è una persona, che non conosci benissimo, perché qui mi danno, una stretta di mano, quindi questa potrebbe essere, una persona che conosci da poco, o addirittura, che tu conoscerai, insomma, qui ci sono, delle verità velate, comunque, ciò che mi fa piacere, è che qui tu verrai a scoprire qualcosa, lì casca l'asino, ecco, questo è quello che ti voglio dire, durante questa settimana, poi ti porterà a dispiacere, tutti che ti pare, però, qui la verità, tu la vieni a sapere, grazie a Dio, vedi, qui c'è l'amore, ok, con i due, con i due cuori, ora vediamo anche i segni, così capiamo di chi ti parlano, vediamo, quarzo rosa e ametista, venere e mercurio, amor noveo, vedi, e poi c'è il gatto del tradimento, guarda, 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 qui fu, no, 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 ascolta, non fidarti, non fidarti, ok, qui ci può essere qualcuno, io spero, mi voglio augurare, da quello che ho letto, ok, che qui poi si venga a sapere, la verità, dun qualche cosa, che la verità esca fuori, perché qui vedo un monte di casino, durante questa settimana, quindi speriamo, me lo voglio augurare, guardati l'oroscopo, e poi metti tutto insieme, vediamo con i segni zodiacali, se ti aiuta a capire, ok, poi potrebbe semplicemente essere, come ti ho detto, qualcuno che torna, che chiede perdono, ok, tante belle cose, però fidati giusto, allora, qui c'è il sagittario, oh, mamma mia, mi volano, i pesci, l'acquario, l'ariete, il leone, dal 14 al 20 di ottobre, l'acquario che viene confermato, aggiungiamo la vergine, l'acquario per la terza volta è uscito, aggiungiamo il toro, confermiamo il leone, e ci fermiamo, quindi, gemelli, leone, acquario, toro, ariete, vergine, pesci, sagittario, questi segnali, poi guardati l'oroscopo del mese di ottobre, e metti tutto insieme, vedi un po' di cosa, però, attenzione, 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 qui c'è un discorso proprio economico, magari tu sai anche te a chiedere dei soldi, tu sai anche te a chiedere dei soldi, per questo problema economico, effettivamente qui guarda, un paniere pieno di una ricompensa insomma per i propri meriti, qui esce, quindi qualcosa ti verrà riconosciuto, questo è un discorso, questi pettegolezzi, un qualcosa che arriva all'orecchio, oppure, però vedi qui c'è questo amore, la noveo, quindi una lettera d'amore, una notizia d'amore, però qui c'è i tradimenti, il traditore, quindi anche questo magari, tu vieni proprio a sapere di essere stata tradita o tradito a tutti i livelli, capito, da qualcuno, quindi a livello passionale, cioè dall'amore, oppure semplicemente da una persona in generale, che noi credevamo in un certo modo e invece la si rivela in tutt'altro, poi mi dovranno spiegare, questi fanno le atti, perché quando parlano di falsità, come nelle civili, o di tradimenti, mi mettono sempre il gatto, cioè qualcuno me lo deve spiegare, perché io riesco a vedere il gatto, sì, comunque, tant'è, fai attenzione, quarzo rosa e amefista, per favore, poi mi farai sapere, giù, nei commenti, va bene? Io vi abbraccio, vi bacio, tutti e tutte, vi aspetto sempre, qui, su Penelope, e le sue carte, al mio prossimo video, ciao!